È un percorso che aiuta a superare tantissime cose e a iniziare a fare, a mettere in azione. A differenza di tanti altri corsi che ti danno tantissimi input, magari percorsi che ti danno tantissimi input su cose a lavorare, noi andiamo a focalizzarci su una cosa sola, su un progetto da mettere a servizio e a passare all'azione, a costruirlo proprio. E questa cosa qui non la facciamo con io dietro uno schermo e un video registrato dove ti dico cosa fare e tu a casa lo fai. No, lo faremo in diretta perché ci tengo tantissimo a costruire, ad aiutare in diretta le persone e ascoltarci in base a quello che emerge. Perché a volte le cose più belle, le cose più meravigliose escono proprio spontaneamente e in situazioni che non erano previste. Oppure quella cosa che io pensavo potesse aiutarti, magari se l'avessi registrata, te l'avessi data, non era quella cosa che ti serviva. Quindi nella diretta che cosa succede? Che quella cosa lì potrebbe tornarti utile, che te la dirò, ma potrebbe anche tornarti utile qualcos'altro che non avevo proprio pensato potesse tornarti utile in quel momento. Ecco il bello della diretta perché quello nella diretta fa emergere dei bisogni e subito delle soluzioni per poter proseguire. Se durante il nostro percorso a un certo punto abbiamo un bisogno, ma dietro quel bisogno non c'è qualcuno che ci comprenda, ci possa ascoltare e ci possa aiutare, noi facciamo più fatica a realizzare il nostro progetto. Per questo ci serve qualcuno che sappiamo che è presente, c'è ed è in diretta, possiamo dialogarci. Perché quella cosa lì ci permetterà di non fuggire troppo con la nostra testa, di mantenere il focus, di sentirci supportati con qualcuno che ti sappia ascoltare, che ti comprenda e che ti aiuti veramente con l'affetto, con il calore che ti tramanda in diretta e dal vivo per raggiungere quell'obiettivo e per darti i giusti input e output per proseguire, per fare il passo successivo. Quindi per questo ci tengo tantissimo che il mio percorso sia molto in diretta, sia tutto quanto dal vivo, tutto quanto, in diretta dal vivo. Non voglio screditare chi lo fa metà e metà o chi fa completamente tutto pre-registrato, un percorso simile al mio, anche se non ne conosco come mio, modestamente. Cioè non ne conosco percorsi così brevi come li ho fatti io, concentrati per passare subito dall'azione, sbloccare una situazione di vita e realizzare qualcosa di nostro. Non l'ho trovata ancora, quindi non ti so dire se esiste o non esiste a livello universale. Io non l'ho mai incontrato, quindi forse quello che faccio io è unico, è unico veramente come percorso perché ho unito tantissimi metodi, tantissime modalità, approcci che sono un po' quello che sono io, perché sono tantissima complessità, sono eclettico, sono un generalista che ha preso tantissime influenze dal lato marketing imprenditoriale, sociale, psicologico, filosofico. Cioè ho preso davvero da tantissimi ambiti e li ho messi tutti insieme nella costruzione di questo mio percorso, che aiuta gli altri appunto a realizzare il proprio progetto di vita, anche a costruirlo, in modo tale che non facciano più quelle, quegli anni di sbattimenti che ho dovuto fare io prima di lanciare un mio progetto di vita, prima di avviarlo, prima di metterlo in pratica, prima di costruirlo, di riuscire a costruirlo. Quindi questa cosa qui che sto facendo lo sto facendo proprio per evitare che tu caschi negli errori o comunque commetta per più tempo delle cose quando magari non c'era più bisogno di farlo. Non c'è bisogno che tu passi attraverso quella cosa lì, che ti rendi conto che hai fatto una cazzata, ok? E di magari perdere tantissimi tempi e soldi in qualcosa che non ti serve, o cadere in quello stato depressione totale di non sapere più dove sbattere la testa. Cioè non voglio che arrivi lì, voglio che inizi a fare qualcosa con quello che hai e sentirti già soddisfatto e realizzato di quello che stai costruendo. Bene, io sono Samuele Diorgi e sono un esser umano prima di tutto e sono uno che ha creato questo percorso che conduco io appunto insieme, magari se facciamo una classe, anche ad altri per supportarci a vicenda. Se sei interessato puoi contattarmi, trovi i miei link in descrizione o comunque dove mi stai ascoltando. Poi possiamo parlare per fissare un appuntamento e magari conoscere di più su questo percorso se ti può interessare, se ti può essere utile e se fa per te. Perché non è per tutti questo percorso e allo stesso tempo non posso nemmeno seguire tantissime persone e aiutare tantissime persone nel realizzare i propri percorsi di vita, i progetti di vita. Perché non posso farlo, cioè faccio le cose in diretta, non è videoregistrato, l'ho detto prima. Quindi ho pochi posti ogni volta a disposizione da seguire, per poter iniziare un percorso. Adesso forse, se stai ascoltando, forse è il momento di candidarti per poter vedere se questo percorso fa per te e se ti va di iniziare. Perché magari c'è già posto, si può iniziare subito comunque tra un po' di mesi. Questo è tutto, ti saluto, ciao!